Io credo guardarsi alle spalle a prescindere dalla classifica. Bisogna buttarsi dietro quello che è stato, adesso non voglio dire tutto un campionato, però sicuramente le ultime cinque partite, per quello che riguarda la mia gestione, e proporsi in maniera assolutamente diversa per le prossime cinque, quindi senza stabilire quelli che saranno gli obiettivi da raggiungere. No, deve avere la forza semplicemente di ritrovarsi, perché è vero che questa squadra in troppi frangenti si è dimostrata fragile, però è anche altrettanto vero che in alcuni, non dico in altrettanti, perché sennò avremo una classifica diversa, però anche in altre situazioni ha saputo ottenere dei risultati, anche con squadre, anzi oserei dire soprattutto con squadre di una certa classifica, e quindi deve solo pensare a quello che Di Buono ha fatto in questo campionato, anche se è ovvio che c'è rammarico e delusione da parte di tutti, questo non possiamo negarlo e non possiamo neanche raccontarci tante storie, insomma. Il momento è solo quello, ripeto, di andare in campo, di scrollarci di dosso tutte le ansie, tutte le paure e mettere in campo quello che in questi giorni abbiamo creato. Il calcio è pieno di frasi fatte, però alla fine poi spesso sono fatte, però sono anche giuste, insomma. In alcuni casi vengono utilizzate così in maniera anche noiosa, però mai come in questo caso, credo che bisogna metterci tutto dentro questa partita e non solo in questa. Io credo che la cosa più importante sia quello che i tifosi siano vicini a noi, perché è chiaro poi, non credo solo i tifosi, credo che tutti in generale abbiano il diritto di commentare, di criticare, di essere delusi, insomma, credo che non saremo eventualmente l'unico posto di questo campionato dove ci sarà delusione per questi risultati. Io credo che poi alla fine chi retrocederà sarà ovviamente molto deluso, chi andrà in Serie A e saranno tre sarà particolarmente felice, tutte le altre poi alla fine, sì, potranno disquisire su una posizione rispetto a un'altra, ma poi il prossimo anno ripartono comunque tutte dalla B. Questo ovviamente non deve essere un motivo di sollievo, però mi interessa e questo sono felice che la gente abbia compreso che in questo momento è bene lasciarsi dietro tutte le beghe, tutte quelle che sono anche, ripeto, non delle legittime, sacrosante rivendicazioni, però oggi conta solo la realtà e la realtà ci dice che bisogna fare dei risultati e soprattutto, visto che giochiamo in casa in queste due partite, proporci assolutamente meglio di come in tutto il campionato questa squadra, poi non è riuscito a fare in casa. Durante la stagione, dove sia necessario ritrovarsi insieme, perché sai, venire al campo, fare l'allenamento e poi ognuno torna a casa sua, questa è la normalità. Però soprattutto noi, io e il mio staff, che non abbiamo avuto la possibilità di fare una preparazione, quindi di conoscere i giocatori, li abbiamo conosciuti nello spogliatoio del Poggio, li abbiamo conosciuti in campo, però secondo me vale molto anche conoscere negli alberghi, nella maniera proprio di rapportarsi giornalmente, che ovviamente non puoi fare. Questo credo sia stato sotto questo punto di vista, al di là di quello che sarà il risultato, almeno per quello che ci riguarda, inteso come staff, è stata un'esperienza utile e se devo essere proprio estremamente sincero, forse in ritardo. Giocherà per vincere, non credo che il Carpi abbia giocato a visaperto, il Novara abbia giocato a visaperto, la Ternana abbia giocato a visaperto, però siamo stati, aggiungo io, giustamente criticati per aver ottenuto dei non risultati, ma l'abbiamo ottenuto contro squadre che avevano fatto meno di noi in queste partite e mi riferisco sulla decompressione Cittadella e stare qui a discutere di altre cose. Quindi non conta più niente, ripeto, il resto, bisogna solamente fare dei risultati e avere la consapevolezza, quello sì, che ci troviamo di fronte a una squadra che sarebbe terza in classifica, questo dice i punti realizzati, e che ha tanti giocatori e un allenatore in grado di essere come sono stati poi dei protagonisti.